L'Avelino ha bussato alla porta del Picerno per il centrocampista Antonio De Cristofaro, classe 2000 De Cristofaro legato al club Lucano con un contratto fino al 30 giugno 2024 ed è uno dei titolarissimi della compagine di Longo. Il rendimento costante, la duttività e il dinamismo sono il biglietto da visita del Jolly di centrocampo che è in forza al Picerno della stagione 2021-2022 dopo l'esperienza in serie D con la Dace Cerignola allenata proprio da Michele Pazienza. In questo campionato De Cristofaro ha collezionato 17 presenze con tre reti e tre assist. Nella stagione 2021-2022 andò a bersaglio proprio contro l'Avelino firmando la rete del vantaggio dei Lucani nella gara del partena Lombardi che si chiuse sull'1-1 con pareggio bianco-verde e griffato da Maniero sul rigore. Il club il Pino ha avanzato una proposta lettante al Picerno che ora sta valutando l'offerta. La sensazione è che l'operazione possa concludersi positivamente. L'Avelino intanto spera di chiudere entro martedì prossimo la trattativa con il affoggio per Alessandro Garattoni che ha già dato la propria disponibilità per il trasferimento in Irpinia. La società bianco-verde si è mossa in anticipo, non è disposta a partecipare ad aste per il capitano rossonero e ha avanzato un'offerta ufficiale al club pugliese che alla fine dovrebbe accettare la proposta economica dell'Avelino. La società bianco-verde